Ciao a tutti e benvenuti ancora una volta sul nostro canale dedicato alle notizie de Milan. Oggi parliamo di uno degli argomenti più caldi del momento, il mercato delle trasferenze. Come sappiamo, siamo solo all'inizio della stagione, ma la dirigenza rossonera ha già iniziato a pianificare i prossimi passi per rafforzare ulteriormente la squadra. Le prime partite della stagione ci hanno mostrato che il Milan è competitivo, ma è evidente che ci sono ancora alcune aree che richiedono rinforzi. E proprio per questo motivo, uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni è quello di Matteo Prati. Un giovane centrocampista centrale che potrebbe essere la risposta a uno dei bisogni più urgenti del Milan, la profondità a centrocampo. In questo video analizzeremo chi è Prati, quali sono le sue qualità, perché è finito nel mirino del Milan e come potrebbe influire sul futuro della squadra. Restate con noi fino alla fine perché ci sono tante informazioni interessanti e dettagli importanti da scoprire. E come sempre, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le notizie del Milan. Allora, iniziamo subito col capire chi è Matteo Prati. Per chi non lo conoscesse, Prati è un giovane centrocampista di 21 anni, attualmente in forza al Cagliari, ma lanciato nel calcio professionistico con la spalda Daniele De Rossi. Questo nome dovrebbe già far drizzare le orecchie agli appassionati di calcio italiano, poiché se c'è qualcuno che sa riconoscere un grande talento a centrocampo, è proprio De Rossi. E il fatto che Prati sia stato una sua scommessa la dice lunga sulle potenzialità di questo giocatore. Prati è un centrocampista moderno, capace di giocare in diverse posizioni nel centro del campo, ma il suo punto forte è la visione di gioco, unita a un'ottima capacità di lettura delle situazioni tattiche. Al Cagliari, Prati è riuscito a emergere come uno dei giocatori più promettenti della Serie A, è un centrocampista completo, sa difendere, ma soprattutto sa impostare l'azione e gestire i tempi di gioco. Una caratteristica che lo rende interessante per il Milan è la sua capacità di adattarsi a più ruoli, il che significa che potrebbe diventare una pedina fondamentale per Stefano Pioli, sia come riserva di lusso, sia come un potenziale titolare in futuro. Il Milan ha bisogno di rinforzi, specialmente in vista delle competizioni europee e del lungo campionato di Serie A, e Prati potrebbe offrire quella profondità e qualità necessarie per mantenere alto il livello di prestazione durante tutta la stagione. Ma perché il Milan ha puntato proprio su di lui? Attualmente, il Milan ha fofana come punto di riferimento principale a centrocampo, ma sappiamo tutti che una stagione può essere lunga e difficile. Gli infortuni, le squalifiche e il bisogno di far ruotare i giocatori sono sempre dietro l'angolo, e avere una rosa più profonda è fondamentale per non rischiare cali di prestazione. E qui entra in gioco Matteo Prati. Con la sua capacità di alternare fase difensiva e offensiva, Prati rappresenta un'opzione versatile che potrebbe rivelarsi preziosa in momenti cruciali della stagione. Non solo come sostituto di fofana, ma anche come un elemento in grado di cambiare le sorti di una partita quando necessario. In questo momento, il valore di mercato di Prati si aggira intorno ai 10 milioni di euro, un prezzo che potrebbe essere considerato un vero affare, se si pensa al potenziale di crescita del giocatore. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in fretta. La Roma è anche interessata al giocatore, e se la competizione per il suo cartellino dovesse aumentare, il prezzo potrebbe facilmente raddoppiare entro l'estate prossima. Questo significa che il Milan deve agire in fretta se vuole assicurarsi il giocatore ha un prezzo ragionevole. La domanda che molti si pongono è, vale la pena investire subito su Prati? La risposta, guardando al suo potenziale, è probabilmente sì. Passiamo ora allo stile di gioco di Prati. È un giocatore che sa adattarsi bene ai diversi ritmi di gioco. La sua capacità di gestire il pallone sotto pressione e di mantenere la calma in situazioni difficili è una delle sue qualità più apprezzate. Inoltre, Prati sa muoversi bene tra le linee, offrendo sempre un'opzione ai compagni di squadra e cercando il passaggio giusto per spezzare le difese avversarie. Questo tipo di giocatore è esattamente ciò di cui il Milan ha bisogno, specialmente in partite contro squadre che tendono a chiudersi in difesa. Con Prati, il Milan avrebbe un centrocampista capace di dare ritmo e ordine al gioco, oltre a fornire una maggiore sicurezza in fase difensiva. Ma non è solo la sua qualità tecnica a renderlo interessante. Matteo Prati ha dimostrato di avere anche una mentalità vincente. Nonostante la giovane età, ha già giocato partite importanti e ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli del calcio italiano. Questa esperienza in campo, unita alla sua voglia di crescere e migliorare, lo rende un profilo molto interessante per un club come il Milan, che punta sempre a sviluppare i giovani talenti. Un altro fattore a favore di Prati è la sua versatilità tattica. Chioli ha già dimostrato di saper lavorare con giocatori giovani e di saperli inserire gradualmente nei suoi schemi. Prati potrebbe facilmente adattarsi al sistema di gioco del Milan, sia in un centrocampo a tre che in un modulo più dinamico. La sua capacità di giocare sia da mediano che da mezzala lo rende una risorsa preziosa per Pioli, che potrebbe sfruttarlo in diverse situazioni tattiche. Tuttavia, c'è un altro club interessato a Matteo Prati, ed è la Roma. Questo rende la trattativa ancora più complessa, perché il Milan dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita. La Roma, infatti, sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo e vede in Prati una soluzione ideale. Per i Milan, quindi, diventa fondamentale muoversi con rapidità e decisione. Bisognerà presentare un'offerta convincente sia al giocatore che al Cagliari, ma anche offrire a Prati un progetto sportivo che lo attraga e lo faccia sentire parte di una squadra che punta in alto. Un altro aspetto interessante di questa trattativa è che il Milan ha una lunga tradizione di sviluppare giovani talenti. Giocatori come Tio Hernandez e Rafael Leao, che sono arrivati come giovani promesse, sono ora dei pilastri della squadra rossonera. Lo stesso potrebbe accadere con Prati. Se il Milan riuscisse a portarlo a Milano, non sarebbe una sorpresa vederlo crescere rapidamente e diventare una delle colonne del centrocampo rossonero nei prossimi anni. Ma attenzione, il mercato delle trasferenze è sempre imprevedibile. Altri club potrebbero entrare in corsa, e lo stesso Prati potrebbe decidere di aspettare prima di prendere una decisione sul suo futuro. È per questo che il Milan deve essere rapido e determinato nel chiudere questa operazione. L'incertezza è sempre dietro l'angolo, e perdere l'opportunità di ingaggiare un talento del genere potrebbe essere un grosso rimpianto in futuro. E così, amici, abbiamo esplorato tutto ciò che c'è da sapere su Matteo Prati e su come potrebbe influenzare il futuro del Milan. Con 21 anni, un enorme potenziale e una mentalità vincente, Prati potrebbe essere l'acquisto giusto per dare al Milan quella profondità di cui ha bisogno a centrocampo. Tuttavia, con la Roma e altri club interessati, sarà fondamentale per la dirigenza rossonera agire velocemente e con decisione. Una cosa è certa, il mercato delle trasparenze del Milan si preannuncia molto interessante, e noi continueremo a seguire da vicino tutte le novità. Un altro aspetto da considerare, che rende Matteo Prati una pedina ancora più appetibile per il Milan, è il suo potenziale a lungo termine. Oltre alle sue abilità tecniche e alla versatilità tattica già note, Prati ha dimostrato una capacità di crescita costante. Questo significa che, con il giusto ambiente e lo staff tecnico adeguato, potrebbe migliorare significativamente nel giro di pochi anni, diventando non solo un elemento di rotazione, ma anche un titolare fisso e un punto di riferimento per la squadra. Avere un giocatore con un margine di sviluppo così ampio garantisce al Milan non solo risultati immediati, ma anche una solidità futura, costruendo una squadra competitiva per diversi anni a venire. In un panorama calcistico sempre più imprevedibile, investire in un giovane con queste prospettive diventa strategico sia sul campo che in termini di mercato. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, vi piacerebbe vedere Prati con la maglia rossonera? Pensate che il Milan dovrebbe investire subito su di lui? Non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuna notizia. Alla prossima, sempre qui, con tutte le novità sul nostro amato Milan. Grazie a tutti.